Convegno sulla violenza di genere dal titolo La tutela legale dalla richiesta d'aiuto all'aula d'udienza. L'incontro si è tenuto a Larino, a Palazzo Ducale, ed è stato organizzato dalla FIDAPA. Presente la presidente della sezione di Larino, Noemi Petti. È intervenuta anche l'assessore alla cultura del comune frentano, Yolanda Giusti. Un tema attualissimo, si è parlato proprio dal punto di vista giuridico del fenomeno, ma anche del ruolo della prevenzione. Si è parlato delle varie fattispecie di violenza, non solo quelle esistenti tra le mura domestiche, così come quelle che avvengono sui luoghi di lavoro, perché la violenza non è solo fisica, ma anche psicologica, economica e sociale. La forza di cambiare le cose, facendosi coraggio e invocando aiuto, perché spesso soltanto avendo tanta forza di volontà si può uscire da una situazione che davvero tante volte sembra non avere risoluzione. La giustizia può fare moltissimo e può fare poco, dipende dal corpo sociale che la sostiene. Il compito della giustizia è quello di reprimere i reati e quindi di dare delle sanzioni. La sanzione ha un contenuto di repressione e di rieducazione, ma anche una finalità di prevenzione, prevenzione generale e prevenzione speciale, prevenzione generale nei confronti dell'intera comunità, perché la pena è un esempio per l'intera comunità, prevenzione speciale nei confronti dello stesso soggetto che ha commesso l'illicito. Quest'azione può essere efficace qualora la società e la cultura sostengono la magistratura nella sua opera. Occorre in altri termini che l'area dell'illicito in una società sia un'area ben delimitata in modo che la magistratura possa intervenire in queste ipotesi. Occorre che di norma i soggetti della comunità non delinguano affinché la magistratura possa, e le forze di polizia, possano intervenire efficacemente quanto qualche illicito viene commesso. Questo discorso vale anche per la violenza di genere. È un tema di estrema attualità, è un tema rispetto al quale si stanno intraprendendo delle azioni repressive sempre più forti. C'è quasi una smania legislativa nel senso dell'inasprimento delle sanzioni e dell'accelerazione dei percorsi per la punizione dei prevenuti. Io onestamente sono qui per portare il mio pensiero, che è quello per il quale la repressione rappresenta soltanto una parte dell'area di intervento, perché più importante probabilmente è la prevenzione. Peraltro sono convinta, al di là del fatto che delle norme già esistono e prevedono dei trattamenti sanzionatori già adeguati, ma sono convinta che la finalità preventiva e deterrente delle pene non sia idonea ad incidere sulle vere cause di questo fenomeno, che probabilmente non sono aggredibili con la repressione, ma con una valida azione preventiva che al netto della retorica deve partire, io dico che deve partire certamente dalla famiglia, ma deve partire da un modello corretto di amore.